Regione Toscana, il Consiglio regionale Seduta solenne del Consiglio regionale il 10 febbraio per il giorno del ricordo Sarà un confronto e un ricordo in aula tra la maggioranza e le opposizioni per ricordare la tragedia delle foibe E noi andiamo ad ascoltare il contributo dei consiglieri di maggioranza e opposizione che si sono riuniti in questa seduta solenne Il 10 febbraio perché proprio il 10 febbraio di 75 anni fa fu firmato l'accordo, il trattato di pace tra l'Italia e le altre forze alleate Che poneva fine alla guerra e questo è il motivo per cui si ricordano la tragedia, i crimini, gli orrori che tanti italiani subirono in quegli anni E le atrocità della guerra, l'odio che ha segnato il Novecento non può passare inosservato Non ci si può voltare dall'altra parte C'è chi continua a dire e vale per la Shoah ma vale anche per le foibe che tutto questo non è mai accaduto Ecco io penso che un'istituzione come la nostra non debba voltarsi dall'altra parte Debba ricordare perché quello che è accaduto non accada mai più Io prendo in prestito le parole del Presidente Mattarella che lo scorso anno insieme al Presidente sloveno Mano nella mano la potenza di quel gesto, mano nella mano ci ha mandato un messaggio forte Che le sofferenze, i lutti, lo sradicamento sociale e culturale che avvenne in quel tempo non può essere dimenticato E oggi qui faremo in Consiglio regionale esattamente questo Perché la memoria, il ricordo servono a fare in modo che quello che è accaduto non accada mai più La seduta si è aperta con l'intervento di Guido Giacometti Referente per la Toscana dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia Che ha ricordato chi erano le persone che vivevano in quelle terre Italiani, sloveni, croati che non erano tribù ben identificate e separate Erano semplicemente persone che convivevano nella stessa zona senza particolari problemi Italiani, sloveni, croati che non erano tribù ben identificate e separate Erano semplicemente persone che convivevano nella stessa zona senza particolari problemi In zone che nei secoli sono sempre state multietniche E nessuno si sarebbe sognato di chiedere agli altri di cambiare la lingua In Toscana esistevano dei grossi campi profughi Che sono stati soprattutto a Laterina vicino a Rezzo A Firenze, poi a Lucca, Pisa e Carrara Ma poi ne esistevano anche più piccoli Che io ho scoperto andando a fare delle celebrazioni per il giorno di ricordo a Pistoia Di tipo un po' diverso, per esempio i Vigili del Fuoco di Pola Sono trasferiti, non so se tutti, ma in larga misura E sono stati inseriti nella forza dei Vigili del Fuoco di Pistoia E lì hanno insediati una specie di piccolo campo di insediamento a Ponte Abugiano Quindi ce ne sono parecchi Se ne scoprono in continuazione Eravamo situazioni estremamente miste Gente che si era sposata, matrimoni misti Non erano due tribù diversi Semplicemente è come se ora qua a Firenze ci fossero alcuni che parlano un dialetto E altri un altro Quindi non c'erano differenze significative Giornata del ricordo Una giornata importante in cui il Consiglio regionale si ferma E prova in termini istituzionali a fare del ricordo di quello che è successo nelle foibe Un momento di unità Non soltanto della regione toscana ma del nostro Stato Sono quelle giornate importanti, fondamentali Che consentono di stringersi intorno al ricordo di tante vittime A un sacrificio che è costato la vita a tante persone In gran parte dei casi innocenti E questo deve portare una grande riflessione Soltanto così si ricostruiscono le basi, le fondamenta dell'unità nazionale E credo che questo sia importante ogni anno Che il Consiglio regionale si fermi e possa ricordare quanto accaduto Io credo che seppur riconosciuta tardivamente la vicenda dei nostri connazionali Istriani, Dalmati Che hanno vissuto il dramma delle foibe Sia un segno di civiltà Come ha ricordato anche il nostro Presidente della Repubblica Chi rappresenta le istituzioni ha il dovere di preservare quella che è una verità storica Quella di una tragedia che al pari dell'Olocausto ha segnato la storia del Novecento E che appunto richiama tutti quanti noi a non abbassare la guardia Su vicende che purtroppo hanno segnato tragicamente il nostro secolo L'importanza di ricordare il sacrificio dei 300.000 esuli Che al termine della Seconda Guerra Mondiale furono costretti da un giorno all'altro Ad abbandonare le proprie case, le proprie terre natie, i propri effetti E con una valigia di cartone dover partire alla volta dell'Italia Per non finire trucidati dalle milizie partigiane titine Credo sia sempre più un dovere Dispiace notare purtroppo che ancora evidentemente il nostro Paese Nonostante dei gesti bellissimi, li ricordava oggi il Presidente Mazzeo Ricordava per esempio il Presidente della Repubblica Mattarella Che mano nella mano con il Presidente della Repubblica Slovena Lo scorso anno vanno a rendere omaggio ai caduti sulla foiba di Vassovizza Nonostante questi simboli che le istituzioni continuano a regalarci Purtroppo il nostro Paese non è pronto a celebrare questo giorno Ci sono ancora in tutte le città d'Italia, da nord a sud Convegni negazionisti, professori, docenti universitari, rettori E in Toscana non a caso sottolineo la parola rettori Di università che ancora continuano a dire che quei crimini non sono mai stati perpetrati O peggio, li derubricano a una mera ritorzione Legandoli chissà come, chissà perché al periodo fascista Con quell'eccidio, con quello sterminio non sono stati uccisi qualche fascista Sono stati uccisi decine di migliaia di cittadini italiani Che col fascismo non avevano niente a che vedere Anzi, spesso erano stati anche perseguitati dai regimi nazista Stamattina da testimonianza in Consiglio regionale di Toni Capuozzo Giornalista di fama nazionale Che ci ha raccontato la vicenda di un ebreo olandese Perseguitato dal regime nazista Che alla fine della Seconda Guerra Mondiale Torna in Istria per vivere nella terra natia dei suoi avi E lì viene trucidato dai partigiani comunisti Quindi chi continua a voler legare quei crimini al periodo fascista Lo fa consapevole di dire una falsità storica Lo fa consapevole di voler continuare a violentare la memoria di questi nostri concittadini Il giorno del ricordo, così come la giornata della memoria Ci invitano alla riflessione di quelle che sono state delle pagine dolorose Delle tragedie come l'olocausto Auschwitz E in questo caso quello che è stata la pagina delle foibe per l'Istria e per troppi italiani Noi dobbiamo concretizzare il ricordo Ecco perché sono particolarmente contento di aver dato il mio contributo Nell'indicare il nome del referente per la Toscana dell'Associazione Nazionale Giuliano Dalmata L'ingegner Giacometti che ha ricordato bene quello che è stato il dramma delle foibe Il dramma di Jesodi Il dramma di quella che è stata veramente un momento doloroso per l'Istria e per questa parte che era d'Italia Non dobbiamo dimenticarci, dobbiamo portare avanti il ricordo in modo concreto Ma soprattutto cercare di rendere, di fare sì che queste pagine possano essere veramente di tutti Perché troppo spesso ci dividiamo ancora su basi ideologiche E noi dobbiamo essere contro, fermamente contro chi fa del revisionismo Perché così come per la memoria, anche per il ricordo devono essere delle giornate di tutti Leggo a volte commenti, ma anche comunicati che non mi piacciono per niente E questo lo devo dire con molta chiarezza L'importanza è indiscutibile Anche perché per troppo tempo questa storia, questo momento doloroso è stato oscurato, dimenticato, ignorato E anche quando è stata istituita la giornata del ricordo Poi è stato un momento più di contrapposizione che di riflessione su quanto accaduto L'importante sarebbe non dimenticare mai di nutrire umana pietà Cosa che è sempre più difficile in questa società Oggi abbiamo ascoltato parole non di contrapposizione ma di cordoglio Di sincero dolore e partecipazione E questo mi ha fatto veramente molto piacere Perché anche nelle mie precedenti esperienze istituzionali non sempre è stato così Quindi sono contenta che finalmente si arrivi a una celebrazione molto più pacata e sentita come deve essere In aula si è parlato anche del giocatore Dusan Vlaovic E della vicenda che ha visto la sua partenza per Torino Nel momento che ancora era in quarantena per positività al Covid È intervenuto il consigliere Torselli di Fratelli d'Italia Ed è intervenuto l'assessore Bezzini in risposta per chiarire un po' la vicenda Noi andiamo ad ascoltare nei contributi filmati nelle interviste Questa situazione e che cosa è accaduto e che cosa potrebbe svolgersi Porta intanto la conferma di quello che fino ad oggi era un dubbio Ovvero se qualcuno avesse avuto il dubbio se il calciatore Dusan Vlaovic Per recarsi a firmare il contratto con la Juventus Avesse violato o meno la quarantena Da oggi sappiamo che la risposta è sì Ovvero il signor Vlaovic a differenza di tutti gli altri cittadini Che a seguito di un tampone positivo e quindi di una positività accertata al Covid-19 Anziché farsi i sette giorni di quarantena che si fanno tutti i cittadini e le cittadine della Toscana Lui dopo sei giorni o dopo addirittura cinque e mezzo può andare senza deroghe, senza autorizzazioni L'assessore Bezzini ci ha confermato che non esiste alcuna autorizzazione da parte dell'ASL Toscana Né alcuna deroga concessa dall'ASL del Piemonte Quindi anche chi ha raccontato che esisteva una deroga da parte dell'ASL del Piemonte Ci ha raccontato una bufala E' semplicemente che dopo cinque giorni e mezzo di isolamento Il signor Vlaovic ha ritenuto possibile per lui violare la quarantena e recarsi in auto Non si sa con chi Con altri cittadini che poi dopo a seguito di un contatto con un positivo Sono rimasti a giro liberi per la nostra regione E se ne è andato beatamente a Torino a firmare il contratto con la Juventus A farsi le foto in mezzo ai tifosi ed abbracciare le persone Che sono tutti mi sembra protocolli previsti dalla quarantena Covid Quindi la regione toscana, l'ASL Toscana Centro ha trasmesso tutti questi dati all'autorità giudiziaria Quindi da oggi l'autorità giudiziaria, da qualche giorno l'autorità giudiziaria è in possesso Di una comprovata violazione ai protocolli Covid Allora intanto chiariamo un po' la dinamica della vicenda La vicenda non è seguita direttamente dalla regione ma dall'azienda ASL Toscana Centro Che avendo appreso dai media, essendo il calciatore Dusan Vlaovic Un personaggio pubblico della sua presenza a Torino In un periodo in cui causa positività avrebbe dovuto essere in isolamento Secondo le normative ha effettuato delle verifiche Per comprendere se erano pervenute istanze di trasferimento di luogo Dove effettuare l'isolamento E tale verifica hanno fatto rilevare Che non sembrerebbero essere arrivate all'ASL Istanze di questa natura Non sembrerebbero, diciamo Uso il condizionale perché poi capirete il perché Nel senso che a questo punto il Dipartimento di Prevenzione della ASL Diciamo in virtù delle normative sulla violazione di domicilio Sulli spostamenti non autorizzati e così via Ha effettuato una segnalazione all'autorità giudiziaria E sarà l'autorità giudiziaria a fare gli accertamenti Diciamo che essa riterrà opportuno fare Siamo giunti al termine di questo appuntamento settimanale Con il Consiglio regionale della Toscana Noi ci fermiamo qua e vi diamo appuntamento alle nostre prossime edizioni Regione Toscana Il Consiglio regionale Noi ci fermiamo qua e vi diamo appuntamento alle nostre prossime Noi ci fermiamo qua e vi diamo appuntamento alle nostre prossime